quel vescovo di cui già si è parlato quasi a conferma della benevola rassicurazione di maria ebbe un giorno una terza visione mentre stava in chiesa a pregare entrò in estasi gli sembrò di vedere un angelo che aveva le sembianze di una fanciulla che aveva in mano una lunga cordicella per costruire corone del rosario l'angelo prendeva i grani dalla sua corona del rosario ed essi si tramutavano in pietre preziose e con essi costruiva un gran numero di corone del rosario con delle pietre preziose così splendenti da illuminare con la loro luce tutta la chiesa dopo aver terminato la cordicella l'angelica fanciulla giunse davanti alla beata vergine che dopo averla accolta e lodata la ringraziò grandemente e la invitò a donarle molte altre corone del rosario e di farne preparare anche da altri per poter essere degni della sua amicizia terminata la visione rimase rincuorato e consolato e abbandonò completamente l'eresia degli albigesi e sbarazzandosi delle loro cattive dottrine servì devotamente la beata vergine maria e la magnificava davanti a tutti ed ella gli ottenne la grazia di una buona morte e fu elevato alla gioia della gloria eterna grazie a tutti Grazie a tutti.